Generale Keating, ho mandato degli uomini alla stazione per recuperare il Guardrail 9. Mi dicono che manca una parte del dispositivo. Qualcosa chiamato Transcom. Il Transcom è il cuore del Guardrail 9, Generale. Può collegarsi e accedere praticamente a qualunque rete di comunicazione senza fili. Questo spiegherebbe la chiamata del NORAD di qualche minuto fa. Il sistema è saltato quando Mitchell ha distrutto il Guardrail. Quando è tornato attivo, quattro ICBM serrano fuori dalla griglia. Scomparsi. Che cosa intende dire? Che non è ancora finita, signore. Hanno ancora il Transcom. Forse, è come dicevo io, forse c'è davvero qualcuno che lavora con un Tiveros dall'interno. Intende uno di noi? Impossibile. Abbiamo un video in arrivo, un attimo. E da ciò che abbiamo visto, pare che le forze americane stiano effettuando l'assalto finale a Plaza Zocalo, dove incontrano la fiera resistenza dei ribelli legati al generale Ontiveros, che, apprendiamo ora, si è barricato coi suoi fedelissimi nel Palazio Nazionale, da dove ha lanciato un ultimo appello per ottenere l'appoggio internazionale per il suo golpe. Generale Martin, se le interessa ancora la valigetta abbiamo un'immagine satellitare che ne indica la posizione all'interno del Palazio Nazionale. È molto probabile che ce l'abbia il generale Ontiveros. Che se ne fanno della valigetta adesso? Voglio quel maledetto Transcom, qualunque cosa sia. Negativo, Bulldog. Washington vuole prima la valigetta. Va bene, signori. Fine dei giochi. Ontiveros e i suoi uomini sono asseragliati nel Palazio Nazionale, situato in Plaza Zocalo. Aspettatevi una strenua resistenza all'interno del complesso. Però leveremo il generale Ontiveros e ci impossesseremo della valigetta. Capitano Mitchell, è quasi fatta. Le chiedo solo un ultimo sforzo. Ok capitano, il tuo obiettivo è raggiungere Plaza Zocalo. Mitchell, il suo nuovo obiettivo è raggiungere Plaza Zocalo. Abbiamo segnalazioni di diversi check-in in zona. La squadra Charlie le darà supporto. Ma non potrà contare su Bravo. Mi serve due chilometri più a sud per neutralizzare alcuni RPG e permettere l'intervento dei nostri carri. Mitchell, deve ricongiungersi con i miei uomini per l'incontro a Plaza Zocalo. Bravo a comando, abbiamo ricevuto le coordinate e siamo già in viaggio. Ripuliremo la zona. Ma lasciate qualcosa anche per noi a Zocalo. Procedo, capitano. Ripuliremo la zona. Ripuliremo la zona. All'attacchie! Versagli mortiplici avvistati! Informazione al tuo fianco! Procedo! Procedo! Capo fantasma, abbiamo un problema a terra. La zona è disturbata e non abbiamo informazioni sulle forze nemiche. Disturbata. Ma Mitchell ha già fatto fuori il loro guardrail. Abbiamo un segnale termico proveniente da un punto fisso nella sua zona. Facile che si tratti di un disturbatore. Mitchell, bisogna che lei neutralizzi quel dispositivo di disturbo. Attravermi la piazza. Trovi e distrugga quell'affare, capitano. Mitchell, riceviamo vari segnali di disturbo che ostacolano le nostre comunicazioni. Abbiamo individuati due nella sua zona e un terzo in quella di Bravo. Quei segnali devono essere neutralizzati. Ricevuto, generale. Coordinate confermate. Procediamo a neutralizzare l'obiettivo. Procedo, capitano. Ci sono! Attendo in posizione. In posizione! Procedo, capitano. Tengo ancora la posizione, signore. Procedo. A destinazione. Versagli multipli avvistati. Arrivo, capitano. Arrivo, capitano. Arrivo, capitano. Procedo. In posizione. Procedo, capitano. Attendo in posizione. Ci sono! Nemico avvistato. Nemico avvistato. Ch eig sentido. Machi! Espeto! Ci sono! 91. étro. Ero! Ero! Bravo a Capofantasma, segnale di disturbo eliminato. Procediamo per Plaza Soccalo. Capitano, abbiamo un APC in posizione. Procedi al punto d'estrazione. Mertaglio in vista! Mertaglio in vista. Versagli multipli avvistati! Mertaglio in vista. 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 Grazie per la visione!